Vicende dei risparmiatori che si sono visti a zerare i risparmi porta inevitabilmente a riflettere su come prodotti talvolta rischiosi vengano collocati dagli intermediari. Ne parliamo con Antonello Cattani per 23 anni consulente e direttore di banca, oggi dal 2010 consulente finanziario indipendente. Su questo cosa possiamo dire Cattani? Si deduce anche dalla mia lunga esperienza bancaria, sono due gli aspetti da sottolineare. Il primo riguarda un po' la scarsa informazione che gli intermediari tendono a dare, qui adesso ho diverse slide, guardiamo nella prima, in un titolo del settimanale plus sulle 24 ore di novembre, quindi prima che venisse alla luce le vicende di queste quattro banche di cui si è parlato, che titolava come per quanto riguarda il discorso del bail-in, del coinvolgimento dei risparmiatori, ci fosse ancora scarsa informazione ai risparmiatori, quindi il primo aspetto è questo. Il secondo è quello un po' degli organismi di controllo, quindi si è parlato anche delle responsabilità di Banca d'Italia, della Consob, oggi ci sono anche delle autorità a livello europeo che vigilano sugli intermediari finanziari e queste autorità europee, già un anno e mezzo fa, quindi a luglio 2014, avevano emanato un documento, che vediamo qua il titolo in questa seconda slide, che era una sorta di consiglio agli intermediari di non collocare prodotti troppo rischiosi ai risparmiatori. E in questo documento abbastanza corposo, a pagina 17, quindi leggo testualmente, questi organismi hanno svolto un'indagine su come gli intermediari collocassero strumenti rischiosi ed è emerso come in molti casi gli investitori non sono stati informati in modo corretto, addirittura hanno ricevuto informazioni fuorvianti circa la rischiosità dei prodotti. Quindi viene da dire che le autorità ci sono, addirittura sanno come si comportano gli intermediari, però in realtà c'è una vigilanza molto blanda, infatti sono consigli più che altri, non obblighi, quindi questo porta ovviamente gli intermediari a collocare prodotti più remunerativi per sé e rischiosi per i clienti. Ecco, però Cattani c'è uno strumento che i risparmiatori possono avere, un'arma per loro, che è il questionario Mifid, con il quale la banca dovrebbe proprio rispettare il profilo di rischio del risparmiatore, cioè lì ci potrebbero essere tante informazioni. Come funziona? È tutto affatto bene usare il condizionale, dovrebbe, perché purtroppo il condizionale è d'obbligo, perché in realtà noi nel nostro libro di cui abbiamo già parlato, proprio nella prefazione, siamo ben permessi di dire che la Mifid è una legge, se non inutile, poco efficace, proprio perché sembra quasi che, in realtà anziché tutelare il risparmiatore, tuteli più le banche. Cioè la Mifid cos'è? In poche parole è il famoso questionario che le banche sottopongono agli investitori, dove appunto si dovrebbe determinare il grado di esperienza, cioè di conoscenza dei prodotti, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e il grado di rischio. Come vediamo in questa terza slide, adesso le 24 ore del 22 dicembre, quindi molto recentemente, che ha dedicato diverse pagine a questo tema, si vede appunto come il titolo la banca sbaglia il nostro identikit, cioè difficilmente la banca riesce con questo questionario ad inquadrare effettivamente gli obiettivi del cliente, perché le domande sono genere, basta solo pensare al famoso rischio medio, basso o alto, che se ci pensiamo non vuole dire nulla. Fai un esempio delle obbligazioni di Lehman Brothers nel 2008, che il giorno prima di fallire erano considerate a basso rischio, quindi il rischio basso in realtà non vuole dire niente, in realtà andrebbe quantificato, cioè la domanda corretta sarebbe dire, tu risparmiatore se hai 100, quanto al massimo sei disposto a perdere? 0, 1, 2, 10, ecco lì il risparmiatore magari entrando nei numeri forse riesce a dare una risposta più concreta e anche più certa. Sembrano banalità, ma in realtà non ci si è ancora arrivati a questo tema, per cui le banche continuano, vediamo in questa quarta slide, a effettivamente adattare il profilo di rischio al prodotto che vogliono vendere. Purtroppo c'è sempre, sono sempre queste campagne di budget che diciamo prevalgono gli interessi dell'intermediario su quelli del risparmiatore, questo purtroppo è un tema che ancora non si è riusciti a risolvere. Ma questo questionario è obbligatorio da compilare, Cattani? Il questionario è obbligatorio, è obbligatorio per la banca, quindi l'investitore non è obbligato a tenerlo, ma noi consigliamo vivamente di compilarlo, anzi il consiglio che possiamo dare è quello di verificarlo, perché ogni tanto va aggiornato, anche per il cliente potrebbe, il risparmiatore potrebbe avere, cambiare gli obiettivi nel corso della propria vita, quindi il consiglio proprio concreto che possiamo dare è quello di andare in banca a verificare che il profilo di rischio qual è, quello che la banca ha attribuito e verificare soprattutto che i prodotti che si hanno in portafoglio siano compatibili. Noi nell'analisi che svolgiamo quotidianamente, perché in questo periodo molti risparmiatori chiedono il nostro aiuto per fare questo tipo di verifica, ci rendiamo conto come il profilo di rischio in realtà sia completamente diverso dai prodotti che si hanno in portafoglio, cioè prodotti più rischiosi rispetto al profilo di rischio che il cliente pensa di avere, quindi questa è una verifica assolutamente importante da fare. Insomma, un sistema bancario che è cambiato notevolmente negli anni, possiamo dire che in parte è anche stato stravolto, è così? Certo, sì, diciamo che lo spartiacco è stato un po' a fine del 99, quindi è stata un po' l'iniziatore da regolamentazione del sistema, prima le banche erano degli intermediari, cioè erano quasi, non dico che svolgevano una funzione sociale, ma quasi, cioè la banca faceva il ruolo di raccolta del risparmio e impiego di questi risparmi nell'economia. Da quando è cessata questa regolamentazione sono state tolte molti paletti, molte regole, quindi 99-2000, le banche sono trasformate da intermediari a venditori di prodotti, quindi con campagne di budget selvagge. Se diamo l'ultima slide, che proprio parla di Banca Popolare dell'Etruria, dove c'è la mail che i vertici non mandavano alle proprie filiali, quindi ai consulenti, sulla vendita di questi prodotti ad alto rischio, queste obbligazioni subordinate, addirittura si invitavano i consulenti a sostituire gli investimenti poco rischiosi che i clienti avevano con queste obbligazioni subordinate che poi sono state zerate, quindi le banche che proprio premevano sui consulenti quali ricevevano dall'alto questi budget, queste imposizioni ed erano costrette, anche forse contro la loro volontà, a trasformare investimenti poco rischiosi in investimenti molto rischiosi. Questo purtroppo è un dato che dal 2000 è iniziato e che comunque sta continuando, quindi l'invito è di fare molta attenzione e dove non ci si vede chiaro di rivolgersi a qualcuno che possa aiutare i risparmiatori.